Mediolanum, agenzia di Guarra Minore, un ringraziamento agli Alpini, sezione di Varense, Leonate, Ceppino. Stiamo per partire con la gara 2. 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 Direttore sportivo Osanesca, per favore, dai giudici, il direttore sportivo Osanesca, dai giudici di gara, per favore. Osanesca, è arrivato? Direttore sportivo Osanesca, direttore sportivo. Dimi sei arrivato, eh Giovanni. Dr. Di vero. Fr. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo pronti per lo stato tra poco e un'ultima operazione preliminare prima del via. Mi raccomando ragazze, prudenza, soprattutto nei primi metri. Mi raccomando ragazze, prudenza, soprattutto nei primi metri. Quindi attenzione, vado partite e poi dopo avete tutta la gara. Sono 67 chilometri per voi. Una bella gara quest'oggi a Leonardo e Cempino per portarvi a casa la maglia regionale e provinciale. Poi abbiamo anche tanti altri premi e tanti altri riconoscimenti, trofei e poi traguardi volati in tre primi della montagna. Quindi avete tante possibilità quest'oggi per dare il meglio di voi stessi. Mi raccomando attenzione alla partenza, prudenza, poi fate un po' quello che credete. E poi l'arrivo finale dopo sette giri più uno, ci sarà questo giretto in più. Proprio per valutare le vostre capacità finali per dare quello spunto in più finale e cercare di vincere. Mi raccomando, mi raccomando. Allora, vediamo se siamo pronti. Guardiamo i giudici di gara. Ci siamo quasi, ragazzi, ragazze. Tutti alle macchine, gli organizzatori, gli addetti ai lavori, alle macchine. Demostrazioni, servizio a terra, ognuno ha il proprio posto. Vogliamo sul percorso solo le concorrenti e gli addetti ai lavori, pubblico dietro le transzende. Attenzione, poi vogliamo un bel tipo alla partenza. Abbiamo la tiretta, l'aeroscorte, youtube e la pagina facebook per l'orato e ceppino. Sponte radio con radiocorsa, tra i giudici e le macchine. Allora, girlfriend,ær subito. Gliertta, i giudici. Un minuto alla partenza, lo dicono, pochi istanti ancora, pubblico rimanete con noi, attenzione, applausi pubblico, applausi, applausi, all'Ene, sicuro, applausi. Il capto è stato un canale, applausi, applausi, all'Ene, sicuro, applausi, all'Ene, sicuro, applausi, all'Ene. No, no, no. No, no, no.